Senti, io vorrei parlare dell'Atalanta, perché secondo me merita veramente che ci facciamo un video dedicato Un argomento molto interessante Cioè sta in classifica praticamente a meno 8 dalla Juve, zona Europa ragazzi Non è che siamo a parlare dei pizza e fighi per l'Atalanta che è una partita veramente male Ne parliamo Diamo la sigla che dici, così ne parliamo approfonditamente Vai, vai Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati Ecco, bella a tutti anche da me, il Gabone, perché siamo tornati con un nuovo video Parliamo dell'Atalanta Oggi parliamo dell'Atalanta ragazzi, che comunque era partita malissimo, diciamolo subito Diciamo, aspetta, premessa, prima della partita con Napoli che ha vinto 1-0 in casa Praticamente Casperini si si era già dato per spacciato Era stato, si, dato per spacciato, per esonerato praticamente Quindi, che cosa è successo poi? Da là è partita la rivoluzione, perché poi Casperini ha mandato via tutti i giocatori di esperienza Mandato via nel senso, non ha messi tutti in panchina, non ha messi tutti da parte E ha fatto spazio ai giovani E i risultati si sono visti proprio dalla partita contro Napoli Atlanta 1-Napoli 0 C'è un sacco di classe 1994 che corrono veramente tanto In classe 1994 come Gagliardini, Conti, Caldara che fa il difensore centrale Petagna invece è classe 95, addirittura Scuola Milan Ragazzi miei Che ha rubato il posto sia a Piniglia che a Paloschi E Paloschi era stato preso proprio dall'Atalanta per risollevare le sorti dell'attacco Che comunque non stava girando come doveva Ricomprato dallo Swansea che ci sarà trasferito a gennaio E l'hanno pagato pure abbastanza 7 milioni d'euro Non è poco 7 milioni d'euro per una squadra come l'Atalanta Sono bei soldini Quando invece l'attaccante insomma si è scoperto avercelo direttamente in casa Quindi vabbè Alla fine, ma io È quello che dico sempre Le scelte migliori poi sono sempre quelle Sono sempre quelle I panni sporchi uno se li deve lavare in casa propria Perché quello che serve sta sempre là ragazzi miei È difficile perché i giovani non vengono considerati dalle società italiane in generale Una delle poche che sempre ha considerato i giovani Ha fatto esplode veramente tanti giocatori È appunto l'Atalanta Proprio l'Atalanta A me devo dire sti giovani che stanno risentendo la ribalta Quello che mi piace di più è Caldara Difensore centrale mi piace veramente veramente tanto È veramente bravo ma guarda ti posso dire una cosa Se continua così sta l'Atalanta L'anno prossimo non ce n'avrà più manco un oggi men pappino Ma che cazzo è? Ma non lo so Secondo me sì Secondo me sì Perché cominciano a fatte Ambroccate Arrivi a dicembre Prima di Natale o dopo Natale Quello che te pare Quando si decide il campione d'inverno Magari arrivi che stai ancora veramente a meno 8 dalla Juve Stai sesto in classifica C'hai già Non dico la salvezza a mano Ma se continua così 35-40 punti li fa Li fa tranquillamente Perché ragazzi miei Arrivi a gennaio Che c'hai veramente un bel po' di punti Secondo me E ti dico secondo me L'anno prossimo Li venderanno tutti Non lo so Cioè sicuramente tante società si faranno avanti Quello non lo metto in dubbio Perché poi sono giovani Sono giovani che ancora non è che Costano tutto sto granché In altre 2-3 stagioni Se rimangano in Atalanta Veramente potrebbero venire a costare Difensore centrale Mo come mo Se Romagnoli Il Milan ha pagato 30 milioni Quanto aveva pagato? 25 più bonus Ragazzi miei 30 milioni Se uno come Romagnoli Costa 30 milioni Ma Caldara Anche perché in Italia I difensori centrali Parlamoci chiaro Ce ne sanno veramente pochi Di quelli bravi No 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 Quindi potrebbe costare Veramente tanto Secondo me le società Se cominciano già A far avanti Parlo di Juve Parlo di Milan Parlo di Inter Parlo di Roma Cominceranno a fare Dei sondaggi Con l'Atalanta Per cercare Dei strappai Di classe 94 Che comunque sembrano Veramente promettenti Perché stanno a giocare In serie A titolari Assurdo E dimostrano un'esperienza Che comunque è difficile A quell'età No no ma dimostrano proprio Dei saper giocare Cioè fanno tutto quello Che richiede loro Casperini Quella è la differenza Il gioco di Casperini Comunque è molto Cioè richiede molta energia Perché comunque È un 3-4-3 Sì sì Molto molto offensivo Ma soprattutto Assolutamente Richiede proprio un gioco De squadra collettivo Quindi Si sono trovati bene Tutti i giocatori Corsa al 100% Dall'attaccante Al difensore centrale Ma anche al portiere Perché cioè Con Casperini Se corre Che è una meraviglia Esatto E quindi ok E comunque Volevo poi Ho letto sempre Leggendo articoli Insomma informandomi Che c'è stato Sto paragone Tra l'Atalanta E il Leicester Dello scorso anno Mi sembra un po' esagerato Come paragone Mi sembra un po' azzardato Cioè Leicester A questo punto Non mi ricordo A quanti punti stava Ma stava Più alto Non stava Leicester si è fatto Tutto il campionato Mi sembra A parte le prime partite Forse aveva Se non sbaglio Aveva perso 5 a 2 In casa Con l'Arsenal Mi sembra È stata quella La sconfitta più Pesante Che hanno preso L'anno scorso Sì 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 Ma è stato sempre Primo in classifica Tranne ha ceduto il passo Non mi ricordo quando A dicembre A gennaio Invece no Proprio da Natale Che si è confermato Su Primo in classifica C'era ben attimo Che è stato Scavalcato dal Tottenham Se non mi ricordo male Ma stavano là comunque Stavano là Però era stato A Natale però stava primo A Natale stava primo Sì sì è vero Campione d'inverno Poi è stato scavalcato Poi però Leicester ha cominciato E non si è fermato più Ha ripreso la marcia Non si è fermato più Non si è fermato più L'Atalanta sicuramente Non è Leicester Anche se secondo me Il paragone è stato fatto Per il livello di squadra Perché Leicester per la Premier Potrebbe essere L'Atalanta per la Serie A Quello è il paragone Sì 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 Diciamo A Juventus Che anche se gioca male Continua a vincere A macinare Gioco e punti Ma poi i campionati Sono proprio diversi Perché la Premier Dell'anno scorso C'erano tutte le big Che stavano subendo Una fase di ricostruzione Assolutamente sì Infatti era molto più Tranne il Tottenham Esatto Tranne il Tottenham Che comunque Non è abituato a vincere Come lo sono Chelsea Manchester United Manchester City E quindi ne ha approfittato Leicester Che è stata l'unica squadra Costante durante tutto l'anno E quindi insomma Ha macinato il gioco E punti Un titolo clamoroso Con un allenatore Come Claudio Ranieri Che comunque Ne aveva mai vinto Niente di importante Però dimostra Ha riscattato In pieno Assolutamente Dimostra De sapere Insomma De saper conoscere Il calcio inglese Come nessuno Per quanto riguarda Invece l'Atalanta Io vedo comunque La Juventus Che macina Macina punti Ma non gioco Assolutamente sì Comunque sta sempre prima Su 12 partite La vinta a 10 L'Atalanta potrebbe Dà fastidio però A tante squadre Non alla Juve Ma a tante altre squadre Assolutamente Alla Fiorentina Alla Lazio All'Inter Alla Roma E la prossima infatti Dopo il rientro Dalle nazionali È proprio Atalanta Roma Che si gioca Quindi secondo me Quella sarà una grande Partita da seguire Perché l'Atalanta Dira sicuramente la sua Assolutamente sì Ricordiamo che la Roma In casa dell'Atalanta Ha sempre fatto Figure de merda O quasi Quindi ragazzi Mi hai bisogno Fa veramente attenzione Anche il Papu Gomez Però da quando gioca Con Gasperini Da quando Gasperini Gli ha ridato fiducia Sembra segnare anche Molto di più De quanto non segnava Soprattutto nelle ultime partite Se non sbaglio Ha fatto tre o quattro Goal Nelle ultime giornate Da quando hanno cominciato Il ruolino De vittorie C'ha uno strappo A livello offensivo A livello di scatto Che è un qualcosa Di incredibile Mi piace tantissimo Mi piace proprio tanto Sia in fase di slalom Sia in fase di dribbling L'unica cosa Che non c'ha poi Tutto sto gran Che è la conclusione a rete Perché è sempre stato Un giocatore che segna Abbastanza poco Per le qualità Che fa vedere Però comunque Un giocatore Che ha un'Atalanta Come questa Fa veramente la differenza Fa molto molto comodo Il punto di riferimento È assurdo vedere Che Piniglia Non sta più a giocare Quello è assurdo Perché io considero Piniglia Un giocatore Veramente ancora Molto importante Perché ha sempre fatto La sua sporca figura Con l'Atalanta Ma in generale Anche quando giocava A Cagliari Insomma Fa sempre tante reti Sì sì Ma Piniglia È sempre stato Un grande attaccante Però Evidentemente Se Gasperini Vede un attaccante Giovane Classi 94 95 95 Petagna Scusate Lo vede meglio De Piniglia Qualche motivo Ci sarà sicuramente Sì sì Ma forse Gasperini Vuole subito Improntare Il suo stile De gioco E quindi Se ha dei giocatori Giovani Che può proprio Mettere la mano Lui sopra Che gli plasma Lui A suo Dici che i giovani Possono seguire Più rapidamente Si adattano più rapidamente Agli allenatori È proprio quello È proprio quello Secondo me pure Dici che i giocatori Di esperienza Come Piniglia Fanno un po' A cazzi Inzaghi segnava Stava Metteva la mano Sul palo Faceva 300 gol Perché Inzaghi Era un fenomeno Io penso che è il miglior Finalizzatore Del mondo Inzaghi scuola Atalanta Scuola Atalanta Ricordiamolo Ci riallacciamo Al discorso Esatto Quindi ragazzi miei Proprio un qualcosa De quelle Incredibili Mamma mia Inzaghi è stato veramente Che poi ha lasciato Una dichiarazione Un po' fa Anche se Andiamo un po' Fuori discorso Sul costo di Guain Che costano 90 milioni E lui ha detto Beh se i guain Che costano 90 milioni Io e Cristian Bieri Quanto saremmo costati 180 A capoccia però 180 milioni di euro A capoccia Assolutamente Assolutamente Si è attirata un pochetto Però è vero Perché si è attirata Perché ha detto Che lui valeva di più Vabbè Però è la verità Dalla parte Cioè io non ce l'ho torto È la verità Però tecnicamente Inzaghi si può guardare Cioè Guain Tecnicamente È tutta altra scuola Sì assolutamente Vabbè che alla fine Penata accante Il fine È quello dei faggoli E chi ne fa di più C'ha sempre ragione E inzaghi ne ha fatti Proprio tanti Ne ha fatti tanti Però Iguain A livello tecnico È un qualcosa Non si discute Non si discute Vabbè Comunque Detto questo Abbiamo fatto questo video Perché? Perché vi vogliamo Far riflette Sul fatto che il calcio Non è solo Juve Non è solo Roma Non è solo Milan Non è solo Inter Ci sono anche altre squadre Che quando dimostrano Dei gioca bene Certo Dimostra È sempre un bel piacere Vederla insomma Assolutamente Quindi È giusto che qualcuno Gli dà l'attenzione Che meritano Esatto Questo video L'abbiamo fatto Sull'Atalanta Ma potremmo farlo Sul Torino Anche Anche sul Torino Ragazzi Perché comunque Dall'anno scorso A quest'anno Sono cambiate tante cose Ma il gioco Sembra che è migliorato Assolutamente Quindi ragazzi Se vi è piaciuto Questo tipo di video Noi vorremmo Proporne altri De questo genere Fatecelo sapere Nei commenti Mi raccomando Mettete un bel mi piace Almeno 350 like Direi su questo video E ne arriva uno del genere Esatto Va bene Va benissimo Commentate Condividete E iscrivetevi al canale Detto questo Non ci resta Che dà appuntamento Alla prossima Con un nuovo video E il Capone E il buon Fabio Vi salutano Ciao a tutti Bella Ciao a tutti